Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo è previsto per lunedì 11 marzo. Inizia una fase di stampo invernale. Infatti un nucleo di aria polare trasportato da correnti nord-atlantiche e in arrivo dalla Groenlandia si porterà a ridosso delle Alpi per poi raggiungere in parte i Balcani, da qui l'Adriatico con forti venti di Bora nella seconda parte del giorno e in parte raggiungere il sud della Francia e poi sfociare sui mari occidentali della penisola con forti venti di maestrale sempre nella seconda parte del giorno. Ecco allora il tempo previsto. Come potete vedere delle piogge sulle Emilia e Romagna e al centro, tranne le coste del Medio Alto Tirrenico, nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi di Confine e Romagna e nevicate nella seconda parte del giorno anche sui rilievi marchigiani, abruzzesi e molissani. Le temperature saranno insensibili e caro, le 5-10 gradi al centro-nord, ma questo nella seconda parte del giorno. Come dicevo, i venti saranno intensi di Bora sull'Adriatico nella seconda parte del giorno e di maestrale sulle regioni di Ponente sempre nella seconda parte del giorno. 20 difende sulle regioni di Nord-Ovest. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.